ciao a tutti grazie per questo invito a futuro da remoto e avete fatto un accostamento tra il cobi 19 e il diluvio universale perciò vi mostro questa serie di disegni che ho chiamato cieli forti e che dovrebbero costituire una grande installazione a parete che però non ho mai esposto questi grovigli mi fanno pensare al nido delle idee alla biennale del disegno prima edizione del resto che cos'è che c'è di più ineffabile contraddittorio mutevole del gioco delle forme nel cielo ci aprono ad una visione altra contraddicono ogni codice visivo condiviso e questi disegni da segni sono diventati disegni proprio cambiando continuamente ogni qualvolta un'idea mi si precisava subito la dimenticavo la smarrivo e diventava un'altra cosa adesso ripensando a questo invito e al diluvio universale mi viene da chiedermi che cosa avrebbe visto dall'oblò qualcuno che si fosse sporto magari sfuggendo la sorveglianza del patriarca noi cieli forti 2016 disegni a carbone su fogli 48 per 69 grazie